Buonasera a tutti, grazie, lo dobbiamo dire noi alla voce del popolo perché comunque un'iniziativa di questa importanza sicuramente ha un valore per il nostro territorio. Noi siamo una banca del territorio quindi siamo ben felici di sponsorizzare queste attività di un quotidiano resciano molto importante legato alla diocesi, io poi faccio parte un po' su alcune cose per la diocesi quindi ho ancora più piacere di aver sponsorizzato questa iniziativa. Grazie a tutti.